78 studenti di 13 istituti superiori del Piemonte hanno partecipato al viaggio studio in Austria, al campo di concentramento di Mauthausen al Memoriale di Güseng, come premio per aver vinto l'annuale progetto di storia contemporanea promossa dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione, in collaborazione con le province piemontesi e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.